Arrivano le dosi di vaccino anche per i docenti. Nel Lazio è partita la campagna di somministrazione per il personale scolastico con un vero boom di adesioni. In poco più di 48 ore infatti se ne sono contate oltre 30.000 appartenenti alla fascia d'età 45-55 anni, seguita dagli over 55 sino ai più giovani nei prossimi giorni, presso le sedi ASLE indicate proprio dalla Regione. Noi abbiamo intervistato alcuni di questi docenti al termine della loro prima somministrazione. Lei è una docente che finalmente stamane ha ricevuto la prima dose del suo vaccino. Come si sente? Molto bene, perfettamente bene. Nessun problema. Fanno stare all'interno un quarto d'ora per evitare complicazioni, problemi, disturbi e poi si può andare tranquillamente a casa. Le hanno già detto, le hanno comunicato quando riceverà la seconda somministrazione? Sì, certo. Dal primo appuntamento danno anche poi l'appuntamento successivo per la successiva somministrazione. Il vaccino che le hanno somministrato sa qual è? Sì, AstraZeneca, quello che somministrano a noi. Come si sente? Bene, devo dire bene. Mi sento bene, sono molto grata perché io credo in questo vaccino e sono grata di averlo potuto fare. E rispetto anche ai ritardi che si erano creati per i docenti che non erano considerati una categoria a rischio. Ci sono state grandi difficoltà per avere le dosi sufficienti per tutti e quindi penso che sia auspicabile che si faccia più in fretta da adesso in poi. Le hanno già detto quando le somministreranno la seconda dose? Verrò a fare la seconda dose regolarmente. Quando? A maggio. Al volo le chiedo, lei è una docente che finalmente stamane ha ricevuto la prima dose del vaccino. Come si sente? Mi sento molto bene, molto bene. È stato veramente tutto molto rapido ed efficiente. Quindi al momento insomma non accuso nulla di particolare. Giustamente per voi insegnanti è un importante punto di arrivo, visto che si è tanto discusso di mettere in sicurezza tutto il personale docente, perché è particolarmente esposto? Io direi che è proprio forse l'elemento essenziale per la sicurezza, ma il vaccino forse è l'inizio di una nuova stagione, direi. Le hanno già detto quando le somministreranno la seconda dose? Sì, la prenotazione della seconda dose è stata fatta contestualmente alla prima, quindi io già so che il 12 maggio avrò il richiamo. Grazie.